Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora oggi è lunedì 30 agosto e praticamente sto andando a Torre Bruna in vacanza Penso che questo video lo farò uscire al ritorno delle vacanze perché Torre Bruna, essendo montagna, si sa com'è La linea va e viene Eccomi come potete vedere è notte Lo so, riprendo il telefono soltanto adesso perché ho avuto tantissime cose da fare ho messo a posto casa pulito e tra poco vado a prendere il gelato Ecco ho il gelato Buongiorno Oggi praticamente vado con i miei genitori a fare un po' di spesa in un paese qui vicino Torre Bruna in cui la carne è buonissima Penso di essermi persa Forse ci siamo Forse ho ritrovato la strada giusta Ho fatto una bella camminata Adesso andiamo a prendere da mangiare Come i bambini piccoli No, a te si sente solo la voce Se sentite qualcuno parlare è mia mamma Che non vuole farti riprendere Ecco, come potete vedere ci sta mia mamma che non vuole farti riprendere Ci sta solo la sua manina Smettila tu Ho dormito tutto il pomeriggio E mi fa pure male il braccio Che ho fatto il vaccino Andiamo proprio bene Stasera è proprio una bella serata Che Torre Bruna Praticamente non si vede l'anima viva Praticamente Cioè E' assurdo E' assurdo E' diverso Venirci Mettiamo verso Per agosto Perché Realmente Il paese è deserto Cioè Non c'è nessuno E adesso praticamente Vado preparare da mangiare Insieme a mia mamma Stasera credo Che ci saranno le settine A sosto Io ne ho mai provate Dicono che è buonissimo Buongiorno a tutti ragazzi Sì lo so Ieri sera sono praticamente Crollata Dopo aver cenato Infatti non ho potuto Manco fare la video Col mio attuale ragazzo E se non piove Oggi Andiamo a mangiare Nel bosco Lo so Detto così Sembra chi sa che cosa No Praticamente Dove andiamo noi Ci sono anche I tavoli Le panchine Cioè L'hanno allestito apposta Per chi volesse fare il pranzo Lì E' un bel posticino Dopo ve lo mostro Adesso Proverò a fare una cosa Che non ho mai fatto In 29 anni Speriamo che va tutto Bene Eccomi ragazzi Credo che c'è una cosa Che magari Non farò mai E poi mai Nella mia vita Cioè Prendere la patente Perché Come avete potuto vedere Disastro Tutto tale Quindi credo Che guidare Non fa Proprio per me Sono uscita A fare una passeggiata E fa pure Freddo Qui c'è un brutto Tempo E domani Ripartiamo Grazie Adesso Sono in partenza Per Chieti Quindi si torna a Chieti E quindi Ci rivediamo dopo Ragazzi Sono tornata Praticamente Tipo un'oretta fa A Chieti Sì Questa è la mia città Anzi Non proprio mia città Perché io mi sento Proprio Torrese Torrese Proprio Che dire Sono tornata in questa città In mezzo alla puzza delle macchine In mezzo ai chietini In mezzo a questa qua sotto Che Dove Vedrò sempre le scatole Ah che meraviglia Farò spesso ragazzi Comunque Il video Finisce qua Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un pollice in su E iscrivetevi al canale